Ciao ragazze, ecco a voi un nuovo video. In questo video vi farò vedere questa nail art, che è una nail art veramente molto molto luminosa, diciamo un po' diversa dal solito, anche se come sempre notate che cosa? I puntini, è più forte di me, non riesco a vedere nail art senza. Un occorrente, un giallo smalto rosa, un giallo smalto glitter bianco, un giallo smalto glitter argento, un giallo smalto bianco. Ora passiamo al tutorial vero e proprio. Prendo il mio rosa, io utilizzerò questo di Milano, anche se sinceramente la marca Milano non mi fa impazzire. Voi utilizzate un rosa che volete, ce n'è uno simile di Bushman, che è il famoso Cardinal. Cosa fate? Iniziate a mescolare prima di tutto il colore, perché i colori, vi ricordo, vanno sempre mescolati. Dopo averlo mescolato, prendete un pennello e iniziate a farla French. E non c'è bisogno che le delineate benissimo, perché la potete delineare dopo con lo spot. L'importante è che ci sia veramente pochissimo prodotto. Come sempre io il French lo faccio dopo la bombatura. Una volta asseso tutto il French, cosa fate? Prendete sempre lo stesso pennello, un punto a due, oppure ancora meglio, perché l'ho testato dopo, un punto a zero. Ancora, ancora meglio. E togliete il prodotto nel centro del French. Come state vedendo in questo modo? Mi raccomando, lo dovete togliere bene, in quanto a valle, nel senso che ai due lati, ci dovrà essere più prodotto e in mezzo a dove lo state togliendo ce ne dovrà essere poco. Prendete il French e delineate bene il sorriso. Poi prendete un po' di gel bianco, un po' di colla, secondo di quella che usate, e lo mettete appunto in questa parte bianca che avete creato e se volete anche negli angolini del French. Poi prendete i glitter, ebbene sì, prendete i glitter bianchi, questi sono della Boji, potete prendere qualsiasi marca, potete prendere già uno smalto glitterato, un gel glitterato, secondo se fate la ricostruzione o meno, e riempite quel punto lì. Questo perché? Perché sotto do un leggero colore rosa, leggero leggero, togliendolo quindi appunto rimane leggero, e li metterò poi sopra i glitter per dare questo effetto luminoso. Voi potreste dirmi perché non è messo direttamente glitter? Prima di tutto perché fanno spessore, e secondariamente i glitter non sarebbero rimasti così trasparenti, ma sarebbero rimasti ovviamente rosati, perché allo sotto c'era il colore. Mettete lampada ovviamente a catalizzare, se invece state usando gli smalti aspettate che asciughi. Ora prendete un bianco, io prendo il Mega White di Crystal che è apposta per fare i decori, se no potete prendere anche i colori acrilici e fate i puntini sul bordo. Poi cosa fate? Per illuminare, al posto di usare sempre il solito strass, io prendo questo colore, che è il color champagne di Crystal Nails, e faccio questi puntini, dopodiché metto in lampada a catalizzare. O potete usare benissimo anche uno smalto glitterato, scegliete voi. Ovviamente la ricostruzione è finita, nel momento in cui ora io sigillo, e il lavoro è finito. Spero tanto che questo video vi piaccia, l'ho pensata anche per Capodanno, cambiando volendo i colori, vedete un attimino voi cosa più vi piace. Spero che il video vi piaccia, un grosso bacio a tutte, al prossimo video, ciao!